ok allora eccoci qua allora oggi parliamo oggi parliamo delle figure dell'audi del cinema intese non come figure figuracce ma intese come figure professionali del cinema ok questo per quale motivo noi andiamo a vedere oggi alcune questioni che riguardano quello che se potrebbe essere la professione futura per alcuni di voi oppure quello che potrebbe essere le figure professionali con cui potrete avere a che fare ok quindi facciamo un esempio se uno di voi parte facendo il il fonico di presa diretta facciamo un esempio potrebbe avere a che fare con regista con lo sceneggiatore con runner quindi non conoscere queste figure professionali non è non è non è bello perché uno deve cercare di posizionarsi in una certa posizione sul mondo del lavoro e quindi deve conoscere un po tutte le figure allora molti nostri studenti sono stati inseriti nell'ambito del cinema qui fortunatamente alcuni sono andati a lavorare lucky red production altri nell'ambito god tv e altre case di produzione cinematografiche quindi è molto probabile che qualcuno possa sviluppare una una passione per questo tipo di attività e quindi è importantissimo entrare nella in questo tipo di di considerazione quindi cominciamo da zero oggi praticamente quindi oggi parliamo di ogni singola figura e cerchiamo di capire come funziona poi questi moduli li faremo progressivamente e chiaramente alterneremo anche delle cose pratiche cose pratiche che potranno essere anche seguite e sviluppate da remoto perché utilizzeremo per fare lo sviluppo di prodotti video dei software gratuiti quindi per esempio mariangela che sta da remoto potrà tranquillamente sviluppare dei video utilizzando questi software gratuiti di cui oggi parliamo e quindi potrai fare delle produzioni o diciamo stand alone quindi roba tua oppure anche proprio produzioni per lo studio quindi continuare un lavoro che magari hanno intrapreso dei tuoi colleghi oppure un lavoro ex nuovo ok questo mi piace cominciare con una frase che utilizza un mio amico che insegna in una scuola di cinema di Firenze che dice questo che il racconto per immagini cioè il cinema è una forma d'arte potente capace di ispirare e influenzare il mondo quindi è importantissimo capire questa parte qui perché sempre più sempre più frequentemente da sole la musica o l'audio non camminano se voi fate caso avete visto anche per esempio spotify per esempio no ormai sempre più frequentemente anche spotify ha le immagini piccoli video non so se avete visto come funziona tra l'altro io aggiungo che proprio a partire dal lockdown mi sono un po' specializzata in queste produzioni anche in 3d ah sì sì con quali software parliamo un po' per esempio blender questi di easy brush che fanno appunto dei filmati anche in in 3d per i render e si possono utilizzare anche nelle pubblicità sì non sai quanto sono contento perché questa qui è una cosa di cui parleremo e quindi è una cosa che andiamo sempre cercando qualcuno appassionato di questo settore quindi veramente sono molto contento poi mi spieghi meglio eh in una fase appena arriviamo oggi a parlare di questa parte qui sono ancora in fase di lavoro perché sono programmi immensi sono ma questo vale per qualsiasi programma di questo genere vale questa considerazione cioè non esiste un software che si studia e finisce almeno di questi programmi cioè il software è un'evoluzione talmente complessa e per cui tipicamente uno apprende solamente una porzione poi quando serve un atti serve uno sviluppo ti vai a a studiare quell'altro sviluppo e continui in quella maniera difficilmente uno sa tutti questi programmi professionali conosce tutti sempre una parte che poi deve studiare quando gli serve sostanzialmente no o invece lorenzo dice che non sente niente com'è lorenzo non sente niente perché gli rispondo scusate non senti niente ma lorenzo ma inizia sempre così lorenzo devi selezionare la giusta scheda audio oppure esce rientra che funziona sempre quindi anche graziano vi sta sentendo probabilmente che se non sta lavorando quindi di un'altra classe perché questa lezione qui viene seguita la vostra casa e qualche allievo delle altre classi allora andiamo subito al dettaglio quindi avevamo detto entriamo nello share screen entriamo desktop 2 share ok si vede no lo vedete allora facciamo cominciamo subito le considerazioni alla qui che abbiamo scritto il concetto di figure professionale del mondo del cinema alla questa questa immagine pdf alla classe del martedì già l'ho mandata e per chi invece segue il corso di un'altra classe ancora non l'ho mandata però stasera ve la manderò intanto seguite che poi facciamo delle considerazioni insieme allora ciao furio ciao a tutti a lorenzo bello dopo ti mando pure a te anzi la mando subito guarda la mando subito scusate mando subito questa dispensa a tutti quanti così almeno sarebbe la classe del lunedì nella classe del giovedì ecco fatto così ce l'abbiamo tutti quanti ora allora fa scritto delle cose uno se la usa come come esempio ma questa l'idea di questi tipi di corsi quasi come sono corsi che possono essere parlati è di farci un podcast da diffondere su spotify e su questo poi lo utilizzeremo per fare un'esercitazione capito mariangelo quindi poi vedremo in un'altra sessione come si fa a mettere queste lezioni qui sotto forma di podcast ma non perché ci serve il podcast perché ci serve capire come si fa come si distribuiscono queste cose allora tanto abbiamo detto il mondo del cinema è un complesso è un complesso di figure no non è una sola persona che fa il video making cioè voglio dire esiste anche questa situazione quindi anche una persona prende un cellulare fa le riprese perché c'è stata la sorella che fa la comunione faccio un esempio anche lì ci sono tutte queste figure di cui andremo a parlare ma sono figure che noi oggi riassumiamo in una sola in una sola figura che oggi qui noi vediamo in tutte le lezioni sviluppi però anche per girare un semplice piccolo video c'è bisogno di queste figure che poi possono essere riassunte in più figure per una sola persona però di solito diciamo sono figure che nell'ambito professionale sono separate quindi ognuno di queste figure qui è una figura separata e la cosa importante è capire questo che ognuno di queste figure non è mai solamente una figura tecnica tranne proprio che ti posso dire tranne i trasportatori voglio che sono gli unici che poi fanno un lavoro di fatica tecnica e basta tutte le figure professionali di cui noi andiamo a parlare oggi sono tutte figure miste ovvero sia in parte tecniche e in parte artistiche questo è normalissimo quindi andiamo a vedere un po' questa è la frase abbiamo detto prima la cosa importante è questa capire che l'audio e il video sono interconnessi tra loro e servono nel complesso a suscitare delle emozioni cioè lo scopo del cinema è suscitare emozioni evocative no quindi è importantissimo voi considerate che da studi psicologici sono stati fatti è emerso che l'importanza per esempio dell'audio nei film moderni è superiore del 50 per cento rispetto al alla produzione del video quindi l'audio incide nella impressione quindi nell'emozione per oltre il 50 per cento tant'è vero che se voi fate caso per esempio un film di emozione che sa un film di horror o cose di questo genere se voi vedete lo stesso film togliendo completamente l'audio sparisce completamente il pathos no tant'altro se un film è pauroso tremendo voglio dire no se questi horror micidiali levi l'audio sparisce diventa una scemenza cioè anche scene splatter diventano scene quasi ridicole poi prese da solo questo per dire che l'audio e il video sono totalmente interconnessi quindi il complesso di figure professionali che sono la base per creare quella che noi possiamo chiamare invece di cinema chiamiamola l'arte del cinema perché di questo si tratta sono figure miste interconnesse tra di loro ok quindi questo è importantissimo il numero di persone impegnate in una lavorazione chiaramente molto variabile in base al budget poi considerate che un budget di base ci deve comunque essere per girare qualsiasi tipo di film aspettate scusa un secondo quindi stavamo dicendo il budget di base deve deve comunque esserci perché esistono delle figure non sono prescindibili la figura del montatore la figura del cameraman la figura del tecnico audio e tutto il resto queste sono piccole figure comunque ci devono stare e quindi questo chiaramente alcune di queste possono essere poi interconnesse tra loro la voi considerate per esempio quando abbiamo girato il film il suono di alice che è una piccola produzione dello studios academy che andrà in concorso al in alcuni concorsi lei poi ne parleremo più avanti questo tipo di di produzione è una produzione che per quanto ristretta aveva un regista un tecnico audio di presa diretta più di un cameraman perché avevamo due tre camere presi insieme quindi diciamo almeno un paio di cameraman poi c'erano due assistenti alla regia che prendevano nota delle note e suggerivano quello che succedeva durante lo svolgimento del copione e anche di questo ne parleremo più avanti e già stanno arrivate a sei persone poi c'erano la sceneggiatrice che siccome non avevamo fatto in tempo ad adattare alle capacità degli attori la sceneggiatura considerate che era un low cost quindi praticamente il budget era essendo limitato anche gli attori erano conseguenziali a un budget limitato quindi chiaramente alcune scene dovevano essere riadattate quindi la sceneggiatrice durante lo svolgimento del film riadattava quindi era presente nella scena il tecnico delle luci pure era presente perché serviva ad aggiustare eccetera in quel caso lì alcune figure tipo come vediamo avanti il regista che ero io riassumendo allo stesso tempo anche l'immagine della della fotografia e altre figure poi in più avevamo quelli che erano i runner dei ragazzetti che poi erano diciamo alcuni sempre vari vari amici dello studio di saccarina che erano studenti che davano una mano sostanzialmente quindi c'era chi portava ecco chi portava l'acqua c'era quell'altro che spostava le telecamere e via dicendo quelli si chiamano runner adesso andiamo a vederli nel dettaglio dunque qui c'è tutta questa premessa che abbiamo fatto leggetevela perché è importante per evitare di fare figuracce ecco il mondo del cinema un'altra cosa importante che volevo dire per incentivare lo studio di questa di questa materia è che mentre per l'audio ci può essere un peso 1 per l'audio e video insieme cioè per chi sa gestire sia audio che video c'è un peso 5 in termini economici quindi è importante pensare di approcciarsi a questo mondo qui perché è un mondo che ha dei budget completamente differenti dall'audio ok quindi sai uno potrebbe essere che gli venga voglia allora cominciamo a vedere quali sono le principali figure allora la prima figura alcuni di questi chiaramente se avete domande ok parliamo noi siamo qua tutti insieme Michele se c'hai domande ok tu mi dici siamo qua allora la prima figura importantissima è il produttore e Mariangela che è il produttore che ti viene in mente a te senza leggere il pdf non ti sentiamo eh Mariangela ci sei? batti un colpo se ci sei batti un colpo e se no chiedo a Michele devi attivarla l'audio devi attivarla l'audio io l'ho chiesta la scattiva al mute per attivare l'audio se stai al computer devi schiacciare la barra spaziatrice e tenila premuta oppure schiaccia un pulsantino a vita l'audio vedete un attimo a sistema una cosa inizia no io dicevo a Mariangela però vabbè è uguale mentre Mariangela cerca di capire come sbloccare l'audio vedete un attimo a Mariangela come sbloccare chiedo a Michele allora Michele che cos'è il produttore secondo te? cioè nel concetto diciamo generale non so se tu ti sei mai occupato di cinema cinema no no allora facciamo il ragionamento il produttore che ti viene in mente a te? come se io dico il produttore cinematografico? che ti viene in mente? quello che produce il film? appunto quello che è stato pure il protagonista di tanti scandali per esempio ok allora tipicamente esatto tipicamente te subito ti viene in mente il sex scandal ok sex scandal perfetto tipicamente infatti c'è una connessione su questo perché sono quelli che maneggiano i soldi ok sono quelli che maneggiano quelli che hanno i soldi per girare i film ok e che tipicamente hanno i soldi cercano risorse quindi siccome qui si tratta di cifre enormi per girare questi film decine di milioni di euro considerate un film oggi un blockbuster non costa mai meno di 100 milioni di euro che sono cifre enormi può capitare che qualcuno preso dalla crisi dal complesso di inferiorità possa approfittare di questa situazione e in una crisi di delirio e di onnipotenza possa approfittare della sua situazione economica pensando di essere intoccabile della legge e da cui gli scandali di cui parla per oggi facciamo un ragionamento generale facciamo finta che sia molto onesti come di fatto a George Lucas a Steven Spielberg infatti vedete ho messo i produttori che non sono al centro di scandali perché sono quelli non chiacchierati i cosiddetti allora è quello che dà l'avvio al progetto l'unica cosa che fa lui in carica il regista chiaramente e si sceglie i produttori esecutivi adesso andiamo a vedere allora quindi è quello che trova il finanziamento voi considerate che sono finanziamenti ingenti all'inizio della storia del cinema il produttore era quello che aveva proprio il cash e pagava direttamente però un tempo chiaramente sì il cinema, facciamo conto il cinema italiano aveva un budget che oggi per fare un paragone è come parlare oggi girare con 2 milioni di euro è una cosa che poteva essere la portata siccome è cambiato completamente lo standard solo di distribuzione gli attori prendono dei cifre pazzeschi e tutto il resto perché chiaramente il mercato è diventato molto globalizzato quindi sono cambiati i budget oggi è quasi impensabile un produttore che abbia il cash per girare da solo un film da 150 milioni quindi chiaramente si appoggia a chi a chi finanzia quindi sono le grandi case di produzione Warner Warner, Sony no ma io parlo tanto parli da lì Warner, Sony eccetera le quali a loro volta finanziano l'opera e cercano a loro volta degli sponsor già subito quindi cercano di farsi un'idea se questo film può avere un peso specifico insomma quindi c'è una commissione tipicamente che analizza il lavoro che propone il suo produttore dice io voglio girare Guerre Stellari Star Wars George Lucas Production dice guarda io voglio fare Guerre Stellari vi interessa? questo Guerre Stellari sembra una cazzata per dire così occhio e croce invece lì hanno indovinato che poteva essere una buona cosa e quindi l'hanno ci hanno investito quindi alcuni soldi cash alcuni soldi hanno chiesto alle banche qualche finanziamento hanno cominciato hanno fatto il lavoro di impresa consensualmente non è raro che il produttore possa anche essere regista che regista poi vediamo che la figura del regista è il conduttore direttore del film questo succede frequentemente quando il regista quando il produttore viene dalla regia ok? quindi ti trovi un personaggio che nella vita ha fatto l'assistente alla regia e il regista comincia ad avere una certa solidità e credibilità quindi si integra quindi si cimenta nell'attività di produttore ok? quindi e spesso questo capita spesso quando c'è una credibilità proprio Steve Spielberg e Giorgio Lucas sono stati insieme registi e produttori ok? andiamo e poi ci abbiamo messo la faccia del vecchiaccio qua produttore esecutivo allora abbiamo il produttore il secondo produttore esecutivo queste sono figure uno poi le deve andare a cercare nel senso vi interessa un film e tu qual è stato l'ultimo film che hai visto Michele? anche i videoclip eh? allora l'ultimo film lo sto vedendo proprio oggi pomeriggio ma ancora non l'ho finito è La paranza dei bambini ah molto bello allora un film italiano La paranza dei bambini allora di quel film allora come compito vale per lui ma vale anche per gli altri per Mariangela per Lorenzo chiunque del film che avete visto l'ultimo film che avete visto che vi è piaciuto chiaramente andate ad individuare tutti questi soggetti di cui abbiamo parlato in maniera creativa cercando poi di capire cioè in maniera critica cercando di capire che hanno fatto dove venivano che cosa quindi cercare di farsi un orientamento rispetto a quel film ok? ti è piaciuto? ti sta piacendo? a me si sta piacendo e tanto più quindi vedi chi è stato il produttore esecutivo di quel film il produttore esecutivo executive producer una cosa importantissima l'italiano è una bella lingua tanto che nella musica classica alcune parole non sono state mai tradotte ok? è una lingua musicale dei classici purtroppo lo standard in alcune in alcune professioni moderne invece è l'inglese quindi è fondamentale capire e ricordarsi come si chiamano in inglese queste cose ma questo vale anche per quello che faremo nella professione voglio dire gain è gain nessuno dice guadagno tranne quattro quattro gatti voglio dire quindi executive producer rappresenta il produttore sul set quindi il produttore non va materialmente sul set cioè il produttore big money c'è i soldi c'è la villa a Hollywood e ha la gestione dei soldi e deve rispondere al produttore ok? quindi fai i contratti sostanzialmente vigila affinché le riprese e tutte le altre fasi di lavorazione del film vengono svolte tenendo fede ai criteri di massima artisticità e massima economia ok? cioè massima economia rispetto al budget che ha segnato è un organizzatore generale ok? quindi production coordinator oppure a volte l'organizzatore generale è una figura separata quindi produttore esecutivo budget organizzatore generale quando la figura è separata production coordinator presiede all'organizzazione delle riprese quindi fa il piano di lavorazione si occupa di prenotare gli alberghi e cerca di capire in base al budget quanti soldi stanno uscendo 10 giorni di lavorazione perfetto quanto ci costerà l'albergo in che alberghi li mandiamo? la troupe dove dorme dove dove prendiamo il gruppo elettrogeno i camion quanto costano? è un lavoraccio uno dei lavori più complicati quindi il produttore esecutivo e l'organizzatore generale sono i due lavori più più complicati in questa fase amministrativa ok? i passi sul set i costi considerate qualsiasi produttore produzione anche televisiva ha questo tipo di figure molto presenti ok? ci si arriva spesso senza aver studiato poi alla fine questa roba qua ma avendo frequentato questi ambiti qui ok? poi direttore di produzione questo qui il direttore di produzione scendiamo all'esecuzione quindi è quello che coordina proprio il lavoro quotidiano sul set quello che chiama i taxi furgoncino per trasportare sta proprio sul posto ogni sera scrive l'aiuto del registro l'ordine del giorno cioè alla domani che faremo allora quindi domani faremo andiamo alla location sarà al giardino dal dei tali perfetto chi ci sarà e quindi fa praticamente il piano di lavoro del giorno successivo ok? ispettore di produzione considerate qui c'è tutta una parte analogica quindi dice affida al lavoro lo sviluppo questa chiaramente questa parte non c'è perché nel lavoro moderno viene fatta dal in digitale e quindi c'è un'altra figura che invece fa questa parte qui e dopo ne parliamo gli ispettori di produzione controllano che tutto sia andato a posto quindi non parlano con nessuno guardano e basta sostanzialmente riferiscono quindi al direttore di produzione ok? sono assistenti dai scusami io purtroppo sto scappando per cui tranquillo ma certo benissimo ciao alla prossima ciao Mariangela tanto c'è la camera accesa da torturare perfetto ok ciao oh segretario di produzione questa figura del segretario di produzione è una figura che molti di voi già hanno visto il segretario di produzione è il factotum sarebbe ok? aiutano gli ispettori di produzione sono tipicamente a volte vengono utilizzate pure come runner o jolly o autisti quindi sono quelli che corrono il segretario di produzione è un lavoraccio proprio ok? porti il caffè prende la macchina e se è rotta una cosa devi andare immediatamente a a comprare batterie perché si è scaricata una cosa e c'è il nastro intorno al set e non devi far avvicinare le persone ok? devi accertarti che nessuno faccia le fotografie sul set se non sei autorizzato e via dicendo cioè sostanzialmente è una specie di butta fuori però controlla un po' tutto ci vuole il cervello qui anche per fare quel lavoro lì ci vuole il cervello no? runner o jolly i jolly sono proprio gli ultimi ai ruoti del carro jolly lava la macchina ok? fai i lavori di base ok? considerate che nel cinema un jolly prende 130 euro al giorno e la figura più bassa ok? di questo parliamo quindi per questo dico cominciamo a renderci conto della situazione abbiamo messo qualche figura giusto per dare un'idea questo è un jolly che sta lì chissà che sta facendo oh andiamo nella fase nella parte più creativa la parte più creativa prevede cioè quindi andiamo a scrivere a girare e montare un film quindi il film si pensa lo scrivi mi segui il ragionamento Mariangela? lo pensi lo scrivi lo giri e lo monti queste sono le fasi no? pensarlo scriverlo girarlo cioè registrarlo e montarlo sono quattro fasi allora chi lo pensa il film lo pensa il soggettista il soggettista è quello che scrive il soggetto allora il soggetto è due pagine di film facciamo un esempio no? guerre stellari se io avessi dovuto scrivere il soggetto di guerre stellari avrei detto è un film che si svolge nelle galassie e ha per protagonisti dei personaggi che devono salvare una principessa dalla prigionia che vuole imporre una certa popolazione una vera cosa quindi ci saranno delle guerre tra popolazioni interstellari e alla fine vincerà l'amore e i buoni vincono i bianchi no? infatti bianchi e neri poi all'epoca non c'era non c'era tutta la questione della politica di corretta quindi lì i neri ci avevano torto e i bianchi c'erano ragione pazzesco quel film perché era girato in tempi non sospetti ok? quindi due paginette di film due pagine non di più racconto la storia allora il soggettista di solito queste storie qui intanto c'è uno creativo no? perché devi inventarti da zero una storiella ok? il soggettista è tipicamente una persona che ha una grande creatività perché devi creare da zero no? devi inventare la storiella io per esempio ne ho scritti diversi i soggetti che faccio? li racconto al bar c'è un bar lì vicino allo studio a Torpignattara dove c'è tutti quanti gli avventori a Roma si usa parlare nei bar mi viene in mente un film una storia la racconto a un avventore fuori dal mondo del cinema così non tra ruba e vedi come reagisce io utilizzo questo metodo per esempio vedi che sei interessato se non è interessato quindi vedi se come reagisce il soggetto che hai davanti capito Maria Angela? se vedi che è una cosa interessante prendo carta e penna e scrivo due pagine quello è il soggetto il soggetto deve essere approvato da tutti quelli che stanno sopra quindi dall'assistente di produzione tipicamente per non girarlo troppo già arrivi la produzione già e arriva già fa tutto questo passo cioè soggetto e sceneggiatura già sono nelle mani del produttore prima di tutto cioè il produttore acquista una sceneggiatura che deriva da un soggetto mi sono spiegato bene? ok quindi tipicamente ci sono personaggi che specialmente nell'ambito americano hanno fatto una fortuna scrivendo un bellissimo soggetto è un'ottima sceneggiatura a volte anche nella stessa persona scrive uno e l'altro ok queste sceneggiature vengono acquistate e lì big money se riesce a trovare chi li prende tutto quanto allora se appunto il produttore acquista soggetti che per o male sono stati scritti la dinamica come funziona? io magari scrivo un soggetto sì soggetto allora Alessandro Alessandro Stroscio lo proponi tu al produttore Alessandro Stroscio scrive un soggetto lo scrive solo una cosa e scrive una sceneggiatura poi vediamo come perché va scritta secondo dei certi standard oggi no? dopodiché io faccio il giro delle porte a cercare qualcuno che è solo compra è come scrivere una musica è la stessa identica cosa perfetto quindi io soggettista mi devo proporre cioè come se io soggettista allora dipende che soggettista allora qui dipende che soggettista sei se tu sei il soggettista che ha scritto già guerre stellari capisci che hai un accesso diverso no? tipicamente considera che in alcuni mercati per esempio Los Angeles io sono stato diverse volte a Los Angeles tutti hanno una storia da raccontare perché lì ci sono state storie di successo da zero quindi il famoso sogno americano e quindi se tu giri per Los Angeles la barista del bar della Walk of Fame quindi tu stanno le stelle a terra lei ha un soggetto da raccontarti ok? perché quello è un mondo creativo perché lì spera che dall'altra parte a prendere il caffè ci sia un produttore che dice cavolo che figato sto firma ma te lo dico io ma perché non ci vediamo? vieni da me che me lo racconti un po' meglio capito che ti voglio dire? ok quindi devi pure essere attento perché perché questi soggetti qui sono soggetti che possono essere facilmente rubati cioè tu mi racconti a me Stroscio Alessandro me l'ho saputo che ti chiami Alessandro e non più Ungati ci sono rimasto male allora vuoi continuare a chiamargati le posso meno male mi fa tristezza a chiamarti Alessandro Alla Ungati scrive il soggetto che fa io glielo rubo e l'ho fregato perché il soggetto è tutto nel senso considerate che poi scriverlo in bella è una cosa scrivere in bella un soggetto lo possono fare in tanti crearlo da zero e invece no perché è una cosa che deve scaturire dall'interno deve essere una cosa che non tutti hanno capito? anche scrivere una canzone no? scusate potete parlare di un schiavo per favore è la allora parlare di un schiavo allora quindi Lady B Lady B per esempio è la classica canzone dei Beatles no? do sol la minore fa no? più o meno è una cavolata suonarla anche le parole alla fine quindi vai a vedere when I find myself in time Lady B Lady B ok? che ci vuole a copiarla? se io la sento una volta la copio la deposito è una cavolata qui però non si tratta di copiarla si tratta di uno che si è studiato dal pianoforte è Lady B è la scritta la prima volta nella vita mi so sembra una banalità che dico però è importante attenzione ai copyright questo voglio dire perché i soggetti raccontare un soggetto significa metterlo in piazza quindi consentire a qualcuno di rubarlo quindi è importantissimo accertarsi del fatto che questo soggetto sia stato depositato secondo i modi che vedremo più anche non è l'argomento oggi quindi abbiamo scritto questo soggetto no? la storia di Engati che va al bar incontra una ragazza che si è innamora di lui questa ragazza qui è la figlia di un grande produttore cinematografico che sta cercando un soggetto mentre stando al bar questa ragazza figlia del grande produttore cinematografico racconta una storia a Engati lo sai che mio padre vuole cercare un soggetto sulla base di un artista emergente eccetera 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 ecco il soggetto no? e alla fine si innamorano però lui alla fine si mette con la madre di questa ragazza pazzesco soggetto pazzesco ok questo qui è il soggetto del film è una cavolata no? questo è il soggetto raccontando un po' più qualche altra parola in più però di fatto questo io poi ho finito cioè se non lo deposito quello mi rubano perché che ci vuole rubare una storia del genere e allora dopo tu lo depositi e stai a posto questo che vedete di cui vedete questa questa parte qui questa figura invece rappresenta invece la sceneggiatura la sceneggiatura ecco se eccolo qua sceneggiatore lo sceneggiatore è la persona che scrive la sceneggiatura ammazza scienziato che ho scritto sta cosa scrive il testo e riporta le descrizioni delle scene e i dialoghi in maniera dettagliata ok? qui c'è una parte tratta da un software che si chiama Final Draft che è lo standard mondiale per scrivere una sceneggiatura e adesso andiamo ad affrontare nel dettaglio di massima poi faremo delle lezioni su questo come se scrive una sceneggiatura con Final Draft e tipicamente la sceneggiatura e la regia vengono fatte dalla stessa persona questo perché? perché lo sceneggiatore che ha scritto il film vuole anche dirigerlo se ne ha le capacità tecniche ok? tipo Woody Allen Quentin Tarantino che sono partiti da zero Quentin Tarantino considerate che faceva i film con VHS con un suo amico cioè Quentin Tarantino era dipendente di un negozio dove affittavano VHS VHS è le cassette vecchie cassette di film no? un'altra era così la storia non c'era Netflix e lui era talmente appassionato che si è visto un milione di film e voleva girare i suoi film quindi con una telecamerina lui e il suo amico giravano questi primi film ok? quindi parliamo del soggetto Quentin Tarantino che è partito da sotto zero si è girato i film da soli quando lui è arrivato a fare la scrittura del film allo stesso tempo era anche regista quindi era sceneggiatore e regista perché era un grande appassionato perché sapeva scriverle perché è partito da zero perché ha studiato tanto perché ci si è impegnato stessa cosa Woody Allen Woody Allen i suoi film sono belli per come sono scritti i famosi modi di dire per esempio la frase Woody Allen tipica che riassume un po' il rapporto uomo-donna in una famiglia in un matrimonio è questa e dice no no questo parla in una festa con gli amici un maschio dice no 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 ci mancherebbe altro noi siamo all'antica a casa mia a casa mia comando io mia moglie non comanda praticamente guarda la mazza questo come dice no 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 mia moglie prende solo le decisioni ecco questa è bellissima la battuta humor inglese tipica di Woody Allen che scrive lui e lui vuole che venga fatta in una determinata maniera nel suo stile Maria Angela ha riso però c'è qui a casa mia comando io ma mia moglie prende solo le decisioni è carina questa qua dai cavolo allora riassume questa sceneggiatura il personaggio che il pubblico vuole vuole aspettarsi e nello stesso tempo anche la scena deve essere una scena fatta come la sa fare lui quindi fatta a modo suo quindi nello stesso tempo sceneggiatura e regia ok tipico per esempio in alcuni film che la sceneggiatura venga cambiata in corso d'opera che manda al manicomio gli attori cioè quello vede la scena se l'è scritta quando la vede dal vivo il regista insieme allo sceneggiatore o lui da solo se è lui da solo non gli piace più dice questa scena fa schifo e me la voglio girare poi cambiamo 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 chiama lì gli assistenti alla sceneggiatura e la riscrivono velocemente la fanno ristudiare agli attori e si rigira di nuovo si cambia è frequente questo ok infatti ecco qui lo vedi lo sceneggiatore sia validi validi assistenti oppure io dico validi qui per un motivo non è un aggettivo generico validi perché sono quelli che rapidamente devono seguire devono sapersi orientare in un software di questo tipo qui quindi capire che cosa sta succedendo considerate che il film non viene girato così come viene visto è scontato ma diciamolo tu magari se questo film in un ristorante devi andarci diverse volte durante il film che ne so all'inizio tre volte durante lo scorrimento del film e alla fine del film non è che tu giri la parte iniziale poi giri il resto ritorni al ristorante rigiri quelle tre scene fai il resto e poi alla fine del film ritorni lì in quel ristorante cioè tu giri tutte le scene siccome c'è la location giri tutto insieme lì dentro è ovvio no? fare questo orientarsi in una sceneggiatura complicata di un film che può durare tre ore facciamo un esempio due ore e mezza non è una cavolata quindi servono personaggi che assistono considerate in un film complesso l'assistente alla alla sceneggiatura ce ne stanno quattro cinque assistente alla regia ce ne stanno una decina cioè qui parliamo di cose complesse ok allora questo che vedete sotto per esempio è un software di sceneggiatura che si chiama Final Draft Final Draft allora nel link che vi ho mandato dovrebbe esserci anche i riferimenti il link a Final Draft andatevi a vedere sono cose che sono interessanti vedete come è fatto scorre una timeline vedete qua ovviamente scorre una timeline e ti dice nei vari minuti che cosa succede quindi dal minuto 0 minuto 2 che cosa c'è clicco qua esce fuori interno 34 interna per vedere cos'è è una una casa un salotto parla Chris hey look lady your friends sold you to me Trish Fields around tutta la storia Trish c'è tutta la scritta no sulla destra ti fa vedere uno schemino ti dice che succede ok quindi sulla destra ci sono i piccoli schemini ok quello è vestito in una certa maniera è messo in una certa sceneggiata a volte si danno delle indicazioni perfino agli sceneggiatori per come per come creare la scena i vestiti cioè tu hai scritto il film quindi quando scrivi una cosa del genere lo passi appresso devi dare tutte le indicazioni una cosa importante questo tipo di software non serve solo ad avere una timeline e sapere quello che sta succedendo ma spesso puoi fare delle estrazioni facciamo un esempio qui c'è Trish quello sulla destra Trish a cui devi dare tutti i tuoi testi che dovrà leggere ok questo Trish diciamo Trish ti do il tuo copione allora che fai gli dai un copione intero in cui ci stanno tutti quanti i dialoghi e un estratto di solamente la roba sua con questi software un attimo stampa Trish boom esce fuori stampa dialoghi nella stanza nel salotto pack tutti i dialoghi nelle varie fasi del film ok è molto bello questo qui puoi mettere dentro dei piccoli file fotografie è un software della Madonna questo qui veramente quindi consiglio comunque andate andate da un'occhiata no finaldraft.com ok nel vostro pdf manco dovete andarlo a digitare basta fare click e se apre quindi ve l'ho messa facile ok sceneggiatore comprate tutte le cose funzioni che contribuisce alla stesura soggettista abbiamo già detto il nucleo narrativo della storia ecco qua questo è interessante questa è una cosa storica la definizione in uso in origine di sceneggiatura è poi caduta in disuso assorbita al più generale due temi che termini di sceneggiatore sotto il quale si comprendono anche specializzazioni come titlist del muto americano quello che scrive le dita scalie che è sparito ovviamente oppure dialoghista esperto di dialoghi e persino il battutista che scrive solo le battute di spirito una volta che negli anni 30 c'era quello che era lo spiritosone capito che scrive le battute di spirito come vedete negli anni adesso qui negli anni 30 quindi parliamo di 100 anni fa oggi fa ridere no? che lavoro fai? faccio il battutista nel cinema oggi fa ridere solo che tu lo dici sembra una cosa assurda no? perché chiaramente oggi chi scrive una sceneggiatura deve avere anche queste caratteristiche cioè sarebbe scrivere le battute di spirito quindi negli anni si evolvono queste figure perché cambiano i gusti cambiano le situazioni quindi cambiano anche le figure professionali che sono dedicate a determinati tipi di ruoli skip dotox che è sempre risolvono i problemi di struttura ecco esistono questi qui script doctors guarda qua che risolvono problemi di struttura di struttura che è struttura di sceneggiatura ok? magari scrivono una scena chiave io per esempio ho una mia ex studentessa che ha seguito con me una parte di di corso di sceneggiatura che ho fatto io insieme a un'altra persona questa poi si è laureata talmente che è preciso si è laureata in lettere indirizza proprio sceneggiature nel cinema americano mi ricordo che cavolo ho fatto dopo di che lei è andata a fare vista la grande proprietà di linguaggio della grande fantasia a lavorare nel settore cinematografico e lei proprio fa la script doctors cioè sostanzialmente il dottore della scrittura non so se è chiara la cosa no? cioè la scrittura malata in senso lato quindi è una scrittura che ha dei problemi lo script doctors è quello che te la cura è simpatica come cosa no? quindi sempre nel cinema statunitense sono chiamate a risolvere specifici di struttura ok? noi qui scriviamo cinema statunitense perché sono i cinema che hanno le produzioni cinematografica che hanno molto budget quindi non sono come capita in piccole produzioni locali come può essere l'Italia cinema cioè film dove queste figure non esistono proprio perché sono avocate dallo sceneggiatore oppure per motivi di budget non esistono per niente ok? quindi soggetti che scrivono la scena chiave diciamo sì ma qua manca la scena chiave quindi aiutano lo sceneggiatore a scrivere una scena chiare o la scena finale ok? e vabbè poi vabbè altri soggetti sono gli adattamenti letterari questa è un'altra questione qui è un'altra professione quelli che praticamente sono gli sceneggiatori negli adattamenti letterari prendono un libro e ci fanno un film ok? è un'altra professione ancora quella ancora più complicata ancora più complicata è una professione diversa ecco diciamo così il regista quindi qua ci siamo domande? no sceneggiatore e soggettista che differenza c'è tra la soggettista e lo sceneggiatore Mariangela? tu hai finta che non si sente così almeno non rispondo sai quelli che fanno finta non si sente no lo sceneggiatore è quello che organizza i discorsi le varie scene invece il soggettista si occupa più dei soggetti dei protagonisti in particolare di dargli delle caratteristiche insomma particolari allora aspetta fermi tutti fermi tutti il soggettista è quello che scrive la storia di base il cuore del racconto quindi ti descrivo in due pagine tutto il film lo sceneggiatore è quello che lo sviluppa integralmente ok? sì sì perfetto ci siamo fino a qua andiamo avanti ripassatelo questo dopo oh il regista il regista è un personaggio particolare io dico particolare a me per me è sempre affascinata questa cosa di regia perché mi affascina perché dirige tutta l'opera tarte dirigerla significa saper capire cosa fa la persona la telecamera sapere cosa fa il fonico sapere che cosa deve fare l'attore sapere se la sceneggiatura è scritta male se c'è da fare una correzione è una figura intermedia tra l'artista e il tecnico ed è una figura che richiede tanta esperienza chiaro questo fatto? cioè il regista deve sapere tutto del film sapere come gira una telecamera deve essere un appassionato deve conoscere tutto è un lavoro infatti che non puoi fare a 17 anni in film complessi 18 anni e 20 anni tipicamente ci vuole una grande esperienza quindi servono anni per capire che succede ok? qui diciamo che per esempio in alcuni casi il regista abbiamo già detto prima può essere produttore ed è per esempio il caso nel film AI intelligenza artificiale dove Spielberg è stato anche produttore ok? il regista le seguenti figure che lo aiutano e sono l'aiuto regista l'assistente alla regia e il segretario di edizione bene? l'aiuto regista è uno che gli aiuta e basta cioè gli suggerisce le cose in momenti un po' più complicati l'assistente alla regia è subordinato quindi è un grado sotto l'aiuto regista sta allo stesso livello lo può sostituire addirittura può sostituire il regista se il regista in quel momento non è presente metti scene di routine ok? ripete può farlo l'assistente alla regia invece è subordinato e dà dei consigli dei suggerimenti ma non può operare senza aiuto regista ok? il regista di base è la tipica di cui io lo amministra regista tecnico e artista abbiamo già detto comprende intenzione e sceneggiatura ma allo stesso tempo deve anche essere nelle condizioni di dare indicazioni dettagliate a qualsiasi tecnico presente sul set va bene un film che ha anche compiti più tecnici e comunque mantengono forte componente artistica nel caso della fotografia di quel reparto va bene direttore di fotografia andiamo subito al direttore della fotografia ecco qua ho preso un personaggio che è famoso e questo io ecco per esempio questo direttore di questo ne parliamo vi consigliere pure qui Neville Kid dice ma chi è sonyville Kid è uno dei direttori della fotografia più famosi di Hollywood e sa questo che lavoro che fa lui praticamente sulla base di quello che dice regista sulla base della sceneggiatura sulla base dell'intenzione della della situazione sceglie l'inquadratura e sceglie le luci sceglie le ombre cioè sceglie quella che si chiama fotografia la fotografia non intesa come una fotografia del set che uno dice la fotografia dice quello sarà le fotografie sul set no lui sceglie l'immagine giusta per quel tipo di scena quindi per esempio una scena con maggiore tensione avrà più luci scure faccio un esempio ho scritto qua e ombre più marcate e così via lui dice guarda il soggetto deve stare un po' più a sinistra qua tu dovrai inquadrare questa cosa qua la luce questo qui non va bene cambiamo la luce ok e poi si gira non la fotografia gira il film si chiama direttore della fotografia vi consiglio di andare a leggere chi è suon evil kid ci avete la dispensa quindi potete successivamente andare a vederlo bene attore ora è bella foto commesso l'attore tutti o meno hanno un'idea di chi cavolo è questo attore ok l'attore interpreta il personaggio che gli è stato assegnato gli attori recitano a fornire per fornire la maggiore credibilità possibile al personaggio rendendo lui naturale ed esprimendo emozioni cioè deve fare suo il personaggio spesso è frequente nel cinema che l'attore tanto entri in un personaggio che poi si dice ne rimanga prigioniero avete mai sentito questa frase questo modo di dire l'attore prigioniero del personaggio che vuol dire che è prigioniero del personaggio questa chi è chiediamo Mariangelo Amor sei l'unica che la telecamera è accesa se lo porta nella vita chi è che parla qua Lorenzo Lorenzo allora che cosa vuol dire secondo te che l'attore è prigioniero del personaggio eh no no dico che se lo porta nella vita cioè nel senso che anche nel quotidiano è talmente tanto entrato nella parte che a volte si comporta come il personaggio che poi si comporta per lavoro insomma allora in realtà non è così sembrerebbe ma in realtà non è così prigioniero del personaggio si intende sempre in termini professionali è la persona che ormai viene identificata con un certo personaggio quindi non può più fare nessun altro ruolo ah ok ok tipo per esempio qui davanti ho scelto un po' di personaggi che tipicamente tu identifichi in una certa maniera ok alcuni pochissimi riescono a cambiare la loro cosa tipo Tom Cruise è l'eroe pure mi ricordo anche un'intervista dell'attore che ha fatto Mammo ha perso l'aereo si ragazzino da bambino si 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 è incominciato a soffrire di una forte depressione proprio perché lo era prigioniero del personale esatto era prigione di lui e il suo ruolo pure era diventato vecchio e questo era era il bambino infatti adesso vedo che non è che fa più film insomma addirittura il mare si è sceso nell'alcolismo c'è avuto un problema con le droghe un po' di disastri quindi si è questo questo che hai detto di è proprio il classico esempio di prigioniero del personaggio allora questo per dire che allora avete mai visto i test di medicina a test di medicina c'era l'altro giorno chiede come si compila un come si calcola l'imutino immobile io perché oppure chi era il molleggiato italiano tu sai chi era il molleggiato italiano Mariangela Celentano esatto al test di medicina era chiesto questo Celentano perché non perché tu quando fai il medico devi andare a far il molleggiato è cultura generale tu parli col popolo italiano quindi te te presenti quello te con una vecchietta te comincia a parlare delle cose italiane cioè tu se sei un alieno sei presenti che non capisci quello che sta succedendo intorno a te e qui la stessa storia diciamo perché devo sapere che l'attore è prigioniero del personaggio se devo far il fonico per dirti perché tu sei immerso in un contesto intanto si presume che tu possa progredire quindi possa non è che ognuno è intrappolato puoi crescere soprattutto perché tu devi capire cosa sta succedendo intorno a te ok anche gli attori caratteristici cioè non protagonisti che interpretano gli attori superiigli che centrici singolari spesso cambiano e continuano a interpretare anche in altri film il ruolo operativo è gioco in cameo i cameo cameo che cos'è è la comparsata da parte di attori molto famosi ok Stan Lee per esempio creatore di la storia da Marvel quindi famosissimo faceva l'uscita nei vari adattamenti scenografici tu usciva fuori questo personaggio e ti facevi i due minuti un minuto e trenta secondi ok i cameo per esempio Ichekok faceva il cameo sui suoi film c'era questo pezzo di fare i dieci secondi compariva nel set ok il gruppo di attori che prende parte a un film viene definito cast infatti la selezione degli attori per un film si chiama casting esatto cioè casting che è un termine inglese non traducibile in italiano tanto è vero che una selezione per gli attori per scegliere l'attore di un film tu non lo diresti mai così dici casting devo fare il casting di un film e tutti capiscono ok non credo ci sia una parola italiana che fa in tutto in una sola oh andiamo ai ruoli tecnici operatori di camera allora noi lo studio abbiamo diverse telecamere anche cinematografiche quindi abbiamo fortuna di poter fare un po' di riprese e in altre in altre puntate vedremo direttamente la successiva puntata la prossima puntata è proprio come si utilizza una telecamera e quali sono i parametri fondamentali considerate una telecamera all'interno c'ha anche le schede audio la telecamera è un sistema complesso che ha audio video e tutto il resto quindi bisogna conoscerla più o meno sono molto sì una dall'altra sono molto simile delle camere non bisogna lasciare vedere questa immagine qua dice mamma mia che ansia no non c'è da avere paura perché è abbastanza semplice sono tutte uguali cambia qualche cosetta nel trovare la singola diciamo la singola funzione ma fanno tutti le stesse cose a me che è roba artificiale oh me l'ho dimenticato di prima per quanto riguarda la sceneggiatura il fatto che ad hollywood recentemente ci sono state delle manifestazioni sia da parte dei operatori del cinema sia da parte del casting legate proprio all'intelligenza artificiale e chi è che parla che questo è forte chi è che sei tutte Lorenzo Lorenzo non è troppo fortissimo il cognome tuo De Angelis bravo De Angelis allora quindi la seguite tutta la storia dell'intelligenza artificiale perché perché l'intelligenza artificiale riesce a fare della roba pazzesca ok riesce a fare riesce a fare delle cose ormai che prima si potevano fare solamente se avevi una grossa competenza faccio un esempio no? guardate stamattina che abbiamo fatto aspetta allora guarda qua vi mando sulla chat vi mando sulla chat questo che ho girato stamattina ok allora questo che vedete è un videoclip che ho fatto per un cliente mio stamattina lui mi chiedeva un videoclip abbiamo registrato l'audio e abbiamo fatto la fotografia gli ho fatto una fotografia a lui e poi mentre parlo ci deve essere il testo che scorre e dà importanza alle singole parole che io sto dicendo va bene? prima fai un'operazione del genere basta una mattina tant'era prendi ogni singola parola del rap montala lì fai colorale mettila a tempo ogni singola parola che esce come sottotitolo non so se hai presente che lavoro che è specialmente in un rap io questo invece l'ho dato in pasta all'intelligenza artificiale in un'app che si chiama che si chiama Captions 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 e lui ha tirato fuori quel video che poi vede l'hai visto Mariangelo che te l'ho mandato? guarda che razza di roba che ha fatto non so se Lorenzo riesce a vederlo no io non lo vedo su Whatsapp ah su Whatsapp qui siamo ultra multimediali tu lo vedi meglio tu lo senti meglio e tutto qua si 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 rimane non lo fate gira chiaramente interno allo studio si sape solo come demo certo se tu vuoi vederlo mandi un po' avanti è impressionante cioè tutti i sottotitoli che tu vedi là sopra sono stati messi mica da me l'ha messa l'intelligenza artificiale che riuscì a capire durante la canzone quello che stesse dicendo e l'ha posizionati appunto giusto dando più importanza alle parole alle parole più importanti gli ha dato più importanza ma una cavolata guarda è impressionante lascia perdere il genere musicale non voglio commentare sì sì no no certo ok però in un brano del genere un rap è abbastanza visto che è una mitraglia dice quello ha preso le parole le ha messe tutte quante ha dato un colore diverso per ogni parola tutta st'operazione l'ha fatta in 30 secondi compreso il download del nuovo video non so se ti rendi conto della potenza di sto strumento quindi tu hai tolto il lavoro adesso questa è una piccola cavolata ma nel caso avessi dovuto fare un video immaginate che so un video lungo dove tutti i sottotitoli di un film cioè lavoravi una settimana oggi un film è tutto sottotitolato in automatico con software gratuiti da vincere sob proprio e cambia il sottotitolaggio per singolo attore perché riesce a capire il timbro di voce di ogni singolo attore e quindi riesce a cambiare colore in base a chi sta parlando mi sono spiegato una cosa bestiale infatti è uno dei motivi per cui erano erano abbastanza erano incazzati sì ma tu non c'è cioè tu non puoi hai visto Don Quixote della Mancia con Sancio Panza tu non puoi fare la lotta contro i mulini a vento no no lo so ma infatti purtroppo è una protesta stupida è una protesta che ritarda un mese ma poi alla fine tu se sparisci cioè anche le sceneggiature voi provate ad andare su chat GPT e scrivi mi scrivi un soggetto che riguarda la storia di che ne so una ragazza che sta in Puglia e segue un corso di di fonia online e poi alla fine gli è piaciuto questo corso e diventerà una grande star nel mondo della produzione audio va bene? poi lo prendi là lui ti scrive tutto il soggetto ed è impressionante provate andate su proprio questo proprio quando ti capita Mariangelo vai su chat GPT chiaramente secondo me alla fine però serve comunque un po' di intervento umano ma so d'accordo con te però tu superi la sindrome del foglio bianco cioè tu prezza e te siedi sul tavolino e ti sembra poco e i miei spunti sai com'è lo spunto ti cambia la vita perché tu con lo spunto non c'hai il foglio bianco davanti a te che stai lì oddio te capita no quando tu scrivi belle canzoni io ho sentito anche bei testi tutto sta a cominciare no? poi dopo tu quando hai cominciato hai buttato giù aggiusti le parole vai eccetera ma partire è tosta gli antichi romani sai che dicevano? dicevano così noi l'italiano l'abbiamo tradotta male dicevano chi ben comincia è a metà dell'opera questo avete già sentito a sto modo di dire no? in realtà invece gli antichi romani non dicevano così il proverbio latino era di medium facti qui cepit abet che tradotto in italiano significa chi comincia è a metà dell'opera no chi ben comincia poi noi abbiamo scritto boh chi ben comincia però di medium facti ne ha fatto già la metà qui cepit chi comincia abet quindi chi comincia è a metà dell'opera il che significa che se tu hai l'intelligenza artificiale che te la butta là pure un po' scoordinata e tu te sei fatto metà dell'opera è solo che l'intelligenza artificiale te la manda là finita non è che te la manda là diciamo come dire vabbè te la manda finita te la manda finita ma può anche essere eventualmente oggetto di rielaborazione il che significa che tutti i soggettisti possono sparire in qualche maniera se non sono dei grandi allora io aggiungo se non sono dei grandi creativi cioè il soggettista banale sparisce cioè mettete i sottotitoli a un video siamo d'accordo che no però forse è già sparito cioè nel senso se io sono regista non mi serve neanche più il soggettista prendo chat gbt e mi faccio da una sceneggiatura cioè ma pure lo sceneggiatore sorpasso a dire la verità se ci pensi è come no la voglio dire sì però la voglio dire noi siamo in una fase di transizione no se tu interrochi chat gpt questo vi invito a farlo perché voi giovani avrete a che fare con l'intelligenza artificiale più di quanto ne avrò a che fare io per una questione biologica no moro prima quindi chiaramente lascio spazio allora voi avrete a che fare con questa questione quindi capire il nemico è fondamentale provate a chiedere a chat gpt che differenza c'è nella scrittura di una sceneggiatura tra un essere umano e un'intelligenza artificiale oppure un'altra domanda che potreste fare quali saranno gli sviluppi della professione di fonico con l'avvento dell'intelligenza artificiale diciamo sviluppata è che non lo dovrebbe sapere lui eh ma lui c'è una capire allora certo no ma tu non devi allora chiaramente negli anni esistono religioni per qualsiasi cosa ci sarà pure la religione dell'intelligenza artificiale ci saranno i seguaci dell'intelligenza artificiale no? sì sì sicuro ci sono stati i seguaci di tutti i politici possibili perfino dei berlusconi figurate questo questo qua te può immaginare no? quindi a certo punto ci sarà il seguaci dell'intelligenza artificiale si ginocchieranno tante l'intelligenza artificiale ci sarà un computer e tutti in ginocchio davanti no? non mi meraviglierei anche di questo ne abbiamo visti tutti i colori allora noi in questa fase critica cerchiamo di capire come funziona no? perché ne avremmo a che fare quindi non vogliamo da lui avere una risposta che sia conclusiva ma sulla base delle sue capacità di elaborazione vogliamo capire quello che gli dice la capoccia questo te sto dicendo io capito? sì 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 certo per cui secondo me è ragionevole porsi il problema e interrogarlo interrogarla interrogarlo non lo so ci sono quelli che chiamano femminile e certi chiamano maschile non ho mai capito perché sta cosa però la intelligenza artificiale va bene? o l'intelligenza artificiale non lo saprei dire va bene? quindi questo chiaramente ho alcune professioni tipo l'autista sarà senz'altro spazzato via dall'intelligenza artificiale cioè non c'è dubbio che incidenti come ci sono stati ieri quello di ieri poi ci saranno delle indagini dove sono morti 22 persone l'avete letto quello probabilmente con un'intelligenza artificiale quell'incidente non sarebbe successo sembrerebbe che sia dovuto a un malore grave del conducente quindi quel tipo di incidenti lì quel tipo di professioni lì sparirà senz'altro ok? quindi interrogarsi che succederà alcune volte ti può aiutare fare quel film allora io per esempio quel video là non è che io ho dato gradi saltizio perché? perché per quanto l'ha fatto l'intelligenza artificiale quello lì che è un analfabeta digitale non lo sapeva non sapeva chiedere non sapeva proprio l'idea invece creativa di quella roba là è sempre stata mia poi mi ha aiutato l'intelligenza artificiale ma quello ho pensato io quella roba lì ok? quindi in qualche maniera fare surfing quando rialonda è più importante che mettersi a fare il muro mi segui il ragionamento? sì sì è inutile mettersi di attraverso perché tanto l'onda è arrivata quindi la manifestazione a Los Angeles fa ridere i polli ecco tanto per essere no no infatti fa ridere perché è fuori tempo massimo cioè ma che vuoi fare? cioè che vuoi fare? non è che mi sembra come quando uscì la mi sembra vabbè la manifestazione dei traghettatori che non vogliono il ponte suo stretto la manifestazione dell'inizio del secolo scorso quando non volevano che le macchine sostituissero i cavalli perché dice poi sarebbero state investite le persone mi sembra il 5G mi sembra qualsiasi cosa no tab qualsiasi cosa che sia un progresso la reciltà tipicamente invece ogni volta c'è questo tipo di tecnologia nuova innovativa non succede che vengano spazzate le precedenti professioni ma succede che cambino completamente il mercato del lavoro cambia completamente per esempio la rivoluzione industriale con le macchine avrebbe dovuto rendere tutti disoccupati in realtà ci ha reso tutti liberi perché siamo stati sollevati da lavorare 14 ore al giorno e fare un lavoro che ti ammazzava quando cevi manco 38 anni 39 anni la media quindi tutti lavoriamo però in qualche maniera no? come prima né più né meno le persone occupate sono sempre quelle quindi anche qui l'intelligenza artificiale trasformerà le professioni quindi la figura del creativo non sarà più il creativo creatino capito? sarà il vero creativo cioè quello che realmente inventa una cosa e non quello che fa la banalità capisci? questo è che sto dicendo questa scena che vedete sotto invece vabbè qui abbiamo parlato della scenografia lo scenografo invece chi fa l'allestimento del set ok? paregnami capisquadre l'architetto diciamo tra virgolette del set quello che mette le poltrone che si inventa come si fanno le cose no? responsabile della fotografia e lo sceneggiatore gli dice deve essere una scena qua per esempio tempestosa in mezzo alle montagne cioè ci deve essere un ponte e cioè questi modellini sono no? una volta li facevano reali questa roba qua il primo guerra stellari era fatto tutta sta roba era fatta realmente con con la carta pesta ok? questa scena che vedete invece qui è una scena di sceneggiatura moderna quindi realizzata con un software che si chiama Unreal Engine Unreal Engine è un software di virtualizzazione tridimensionale realistico che viene utilizzato per esempio per i più grandi videogiochi con cui si è giocato tu giochi con qualcosa Lorenzo? o anche Mariangelo? qualche videogioco? no 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 però mi è capitato per creare degli elementi da inserire nei videogiochi io per esempio ho questo marketplace che su una piattaforma Unity insomma vendo degli elementi da inserire nelle scene tridimensionali sì sì quindi che possono essere acquisiti nel scusate all'interno di Unreal Engine sì sì per esempio ok quindi sai di che si tratta più o meno quindi qui quindi questo qui è un film è una scena tridimensionale e quindi tutto questo è cambiato quindi lo sceneggiatore è quello che realizza la scena in realtà la realizza tridimensionale digitalmente quindi è una via di mezzo giustamente tra un tecnico e un e un artista anche qua no pure qui l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare tanto cioè mentre prima per disegnare quella montagna dovevi andare a prendere dal catalogo dovevi andare a dargli un colore eccetera oggi probabilmente con l'intelligenza artificiale tu potrai descrivere velocemente quella che è la scena potrebbe essere l'intelligenza artificiale ti aiuti a realizzarla più velocemente ok metti un ponte tridimensionale sullo sfondo non devi stare lì a fare tutta la programmazione dell'algoritmo necessario a disegnare questo ponte tridimensionale perché il ponte ci pensa lui ok quindi ti solleva da delle incombenze che sono rutinarie non so se me lo so spiegato allora questo esempio di scenografia virtuale di cui io ho messo il link su pdf ed è interessante vediamo se riusciamo ad aprirlo aspetta che lo dovrebbe aprire ma cacchio sta aspetta che stiamo usando la parte sbagliata aspettate scusate allora questo qui è uno studio che ha un mio amico guidonia aspettate ve lo prendo questo è uno studio che ha un mio amico guidonia è guidonia boh mi ricordo dove sta un po' dopo ti faccio sapere con precisione ha uno studio che praticamente è uno studio cinematografico e fa questo tipo di scene guardatelo un attimo aspetta lo metto indietro ecco qua guarda che scena si vede no eccolo qua lo studio vado a poter di cosa sta guarda qua guardate che roba per terra chiaramente per terra chiaramente è terra vera quella lì per terra la moto è una moto vera ma lo sfondo le luci invece cambiano e ora vediamo come vedete tutta la terra moto eccetera quello ovviamente è tutto vero che deve salire sopra vento è tutto lo sfondo viene cambiata la telecamera è inerziale quindi la telecamera guardate dietro vedete avete visto la scena come cambia la telecamera la posizione la sceneggiatura cambia perché io sposto la telecamera ma si sposta lo sfondo chiaramente non so se mi sono spiegato ma guardate vedi avete visto qui parliamo di milioni di euro ok queste sono situazioni che costano svariati milioni guarda qua guarda che scena guarda qua questo è lo scenografo avete visto che c'ha a real engine lui utilizza il software che praticamente muove la scena la modifica sposta le pietre sulla base di quello che serve in quel momento ed è vedi guarda qua boom è impressionante veramente quindi questa è solo una parte di quello che uno si aspetta cioè ormai pensa quanto risparmi no devi andare là con tutto il set guarda guarda le luci dietro questo è lo sceneggiatore questo 50 mm cioè lui cambia addirittura le focali sulla base di quello che è poi la ripresa ecco queste figure che non esistevano una volta tutta sta roba chiaramente appoggiata all'intelligenza artificiale ma quello sta lavorando ugualmente guadagna è finita l'era in cui il grande mago da sceneggiature deve dire cose analogiche il pezzo di carta che scriveva ecco qua guarda che roba se muove la telecamera segue lo sfondo ed è impressionante chiaramente lo sfondo si muove sulla base delle focali della telecamera perché più è larga la focale meno si muove lo sfondo chiaramente ecco questa real engine quindi quando noi parliamo di intelligenza artificiale ricordiamoci che esiste un mondo che sta arrivando ok e non bisogna avere paura ci siamo fino a qua ok questo andate a vedere questo qui poi fonici e microfonisti questa è la parte che ci riguarda allora questo il fonio che fa prende l'audio in presa diretta ok voi tutti voi grazie allo studio qui farete pratica nell'ambito cinematografico di presa diretta presa diretta significa la presa dell'audio originale che dicono gli attori durante o anche i rumori che ci stanno durante un film nella presa diretta proprio cioè quello che cammina senza il rumore delle scarpe tu registri quello quello parla in diretta l'attore e tu registri quello e via dicendo ok quindi l'audio di presa diretta lo prenderete ci sono dei sistemi niente di complicato si fa questo che vedete sotto è un sistema che serve a sincronizzare tra loro l'audio e il video o l'audio tra loro ok si chiama timecode è un generatore master questo qui lui che fa genera un codice questo per esempio si legge 12 sono le 12 45 30 secondi e quelli sono i frame frame 0 0 0 0 1 0 2 via dicendo e quello gira in continuazione ogni frame lui fa uno scatto in base ai frame che tu gli dai questo questo codice viene mandato a tutti i dispositivi quindi alle telecamere all'audio eccetera chiaramente è un codice audio cioè un rumore praticamente che però noi non riusciamo a percepire è un rumore che non si l'essere umano non riesce a percepire ma che viene impresso nei vari prodotti dei dispositivi quindi quando io faccio una ripresa audio all'interno c'è un time code quando io poi lo vedremo questo particolare come si fa faccio il fonico ho registrato diverse take cosiddette le do al montatore il montatore le acquisisce nel software e le sincronizza con gli spezzoni video per capirci per il tramite del time code non fa l'aggiustamento a mano sposta a sinistra sposta a destra è fuori tempo mettete poco a sinistra può capire pure quello se qualcosa non ha funzionato bene però tipicamente fai audio A audio B audio C video A video B video C butti dentro e lui automaticamente sincronizza per il tramite del time code mi sono spiegato questa roba costosa questo qui allora molti molti registratori generano pure time code molte telecamere generano time code a loro volta quindi ci sono telecamere master e dispositivi slave vengono chiamati spesso nel cinema viene utilizzato un time code generator come questo master che dà a lui il time code a tutti gli altri questa roba costa 6.000 euro sto così perché di alta precisione bene per produzioni più piccole viene utilizzata questa roba qua che è sempre roba molto professionale qui parliamo 1.000 euro ed è pure registratore quello prima invece solamente generatore di time code questo che vedete qui è un registratore da campo field recorder field campo recorder registratore che fa 4 ingressi qua 4 ingressi dall'altra parte registra 8 tracce contemporanee su un SD ok acquisisce il time code ecco sta scritto qua vedi lui mentre scorre o lo genera lui e lo può generare oppure lo acquisisce lui può generare e o acquisire il time code quindi lui per esempio potresti tipicamente funziona così metto tutti gli archetti microfonini considerate mentre si fa una registrazione tutto viene messo dentro a sto registratore viene misto che ne so metto un archetto metto un microfono nascosto il boom mic dall'alto che registra dall'altro cioè diversi microfoni nel cinema alcuni fanno rumore poi devo scartare l'audio alcuni mi servono solo per sincronizzare poi faccio il doppiaggio sostituisco insomma entrano diversa roba dentro là questo audio che registriamo posso mandarlo alla telecamera così la telecamera ha qualcosa già cioè ha il time code che a me serve per sincronizzare ok l'ho detta così un po' complicata ma abbastanza semplice in realtà come avete capito un po' come quello che sto dicendo o anche di questo uno butta l'occhio no com'è sto registratore di campo f8n della zoom che è uno standard tra l'altro se infatti se vedete vedete come è fatto c'ha maniglia e maniglia e queste qui stanno sotto perché perché tipicamente questo qua viene messo dentro una borsa e qui sopra questo qui queste maniglie impediscono al coperchio dovo zainetto per capire di toccare i touch screen oppure i gain e tutto il resto vedi come è fatto è fatto proprio da campo ok questo andate per la legge manuale delle istruzioni oh una cosa ma è tutti i dispositivi di cui parleremo tipicamente se andate sul sito facciamo pubblicità a progresso steinberg strumentimusicali.net per ogni dispositivo c'è il manuale facilmente trovabile cioè descrizione manuale f***a lo fanno loro per fare pubblicità al loro sito e siccome sono gli unici che fanno questo ve lo consiglio andate a vedere il manuale di questa roba qua poi elettricisti elettricisti che portano la corrente considerate che non c'è poca corrente su un set anche una piccola ripresa all'esterno 20 kilowatt partono perché tra luci roba varia climatizzatori stanza e tutte le roulotte dove stanno sceneggiature cioè non è che stanno per strada perché se piove questi dovranno pure scrivere qualche cosa quindi ci sono degli uffici non so se avete mai visto i camion del cinema sono enormi e tipo un circo praticamente si sposta quindi tutta quella roba va alimentata quindi parliamo di elettricisti di un certo di una certa caratura perché devono essere in condizioni di dare corrente a un circo circo del cinema macchinisti mono e luci e via dicendo che si attiva i tecnici proprio post produzione post produzione facciamo un altro quarto d'ora e poi vi lascio liberi post produzione il montatore allora questo che vedete qui è un set è una regia di post produzione cinematografica che si basa su Da Vinci Resolve tutta quell'attrezzatura che vedete lì è Blackmagic e il software che sta girando in questo momento è Da Vinci Resolve allora perché Da Vinci Resolve intanto perché Da Vinci Resolve è gratuito Ensoft è gratuito che per fare il montaggio funziona perfettamente ed è uno standard nel cinema in realtà è gratuito nella versione base e costa 250 euro una versione pro però la versione base ha già tutti gli strumenti per fare il montaggio completo la versione pro puoi farci effetti speciali cose che per capire ci vogliono anni quindi è una versione completa loro perché lo mettono a disposizione gratuitamente perché poi dopo loro vendono l'hardware considerate questo banco hardware che sta lì che vedete qui montato che ha sia la parte la parte diciamo audio che la parte di montaggio video costa 200.000 euro questa roba qui questa regia qui parliamo 250.000 euro ok senza arredamenti senza niente solamente la parte tecnica quindi parliamo di una roba molto costosa quindi loro si possono permettere di regalare il software ok del montaggio possono esistere diverse versioni noi per esempio adesso stiamo facendo il suono di Alice questo film che vedremo alla prossima puntata cominciamo a vedere proprio il montaggio e noi qui abbiamo fatto un montaggio di questo cortometraggio che dura 15 minuti durerà 15 minuti poi faremo una director's cut cioè un montaggio alternativo voluto da regista cioè dallo studio quindi da me che durerà una mezz'oretta perché abbiamo certe scene che a me dispiace buttare e quindi le salveremo facendo una versione che non è destinata al mercato quindi una director's cut ok il montaggio che fa il montaggio prende gli spezzoni e li montano un pezzo qua un pezzo là non è semplice fare il montaggio quindi la post produzione audio nel cinema è un'altra professione questa qui che voi potrete acquisire la capacità per poterlo fare perché perché è un casino perché il cinema non è non è la registrazione in studio dove quello sta lì composto tu gli metti il microfono davanti e canta tutto bello edulcorato pulito pulito il cinema è un casino perché quello lì sta facendo un'azione può esserci il microfono e struscia stai all'aperto passa un aeroplano e si sente un rumoraccio la barba l'ha strusciato sul microfono è un casino ok quindi è un lavoro complicato è un lavoro che prevede degli standard è un lavoro di cui affronteremo dei passaggi ok quindi questo più avanti lo vedremo costumista prima di andare a costumista vi consiglio di andare a vedere il sito il sito Da Vinci Resolve ok Black Magic voi scrivete su Google Da Vinci Resolve Da Vinci Resolve esce questo software gratuito date un'occhiata poi dopo lo vedremo insieme che facciamo dei faremo loro il corso da Vinci Resolve cioè questo per dire che saper fare un minimo di montaggio questo è fondamentale quindi noi lo affronteremo questa cosa qui ok altre figure chiave del film sono il costumista e questo è facile adatto ai costumi di scena il truccatore che si occupa del make up questa figura che spesso viene integrata nel realizzatore degli effetti speciali non digitali non digitali perché se pinguinano perché perché gli effetti digitali con alcuni software per esempio da Vinci possono essere realizzati sulla faccia delle persone in maniera digitale e tu non te ne accorgi facciamo un esempio vedi sto pinguino qui ha un un naso prominente ok dei moduli integrati in Da Vinci Resolve chiaramente c'è una competenza tecnica per poterlo fare ti possono far realizzare questo naso e agganciarlo al soggetto quindi tu potresti agganciarlo e portartelo dietro oppure potresti fargli una ferita e la ferita te la poti portare dietro anche quello te lo fa ok quindi anche lì c'è molto ormai c'è anche lì c'è molto molto digitale scusate un secondo Lorenzo sì no no Lorenzo te Lorenzo qui dall'altra parte scusa ah ok finisco una lezione e ti richiamo ok Flavio c'è il tuo amico che ti cerca qua al telefono quindi ci siamo capiti ho altre cose perché sei importantissimo questo è il nerd si vede la faccia da nerd allora parla ci sta cercando chi è il data manager il data manager è la persona che cataloga tutto sto casino quindi è la persona che c'ha come vedete tutta una serie di di solito una regia mobile quindi in carrelletto e lui verifica quello che è stato registrato quindi prima di andare avanti in ogni scena il data manager deve dire ok cioè esiste il file è leggibile va bene andiamo avanti ok è quello che è responsabile dell'archiviazione cioè quando vai via da un set tutta la roba che è stata registrata ci deve essere deve essere catalogata negli hard disk deve essere stato fatto il backup deve essere leggibile non ci devono essere problemi questo lo fa il data manager è una figura molto importante sul set è una figura costosa perché deve essere un fonico un informatico di base è un informatico se è un informatico però deve avere le cognizioni di come si deve sentire cioè deve avere un'idea di massima di tutto questo qui è una figura importantissima bene sono sempre figure miste poi alla fine non è che mi dice fa il corso per il data manager difficile quindi è una figura molto importante questa il data manager voi considerate che abbiamo fatto delle interviste per conto della RAI qui da noi la produzione è Stand By Me Production vengono da noi lo studio spesso per affittare lo studio per fare delle cose e loro avevano due persone che facevano il data manager considerano se erano delle interviste quindi una persona che parlava e due telecamere tu ti immagini quanta gente ci può essere mai per una produzione del genere una persona che parlava e le domande fuori campo ok c'erano 20 persone 20 cioè lo studio vengono lo studio nostro perché è grande e quindi vengono da noi e non stanno nei capannoni della RAI perché sono delle interviste noir che riguardano personaggi che sono stati sulla scena per fatti di cronaca quindi noi è un ambiente molto riservato e quindi e quindi vengono da noi per fare un'intervista riservata col minimo del personale tutto qua 20 persone e avete capito quanta gente si muove e per fare un'intervista cioè tu dici ma cavolo un'intervista una telecamera tu vedi quell'intervista è possibile tutta sta gente ci sono 20 persone perché se vuoi fare le cose fatte bene devono essere fatte in una certa maniera sto carrello qui da da manager è fondamentale cioè quello che mette tutta la roba nella hard disk ok questa è un po' la carrellata delle figure nel mondo del cinema qui abbiamo riassunto queste figure del montaggio questo è questo disegnino che vedete qui all'inizio qui c'è questa fotografia e vede sullo sfondo le immagini di DaVinci Resolve è diviso in 4 perché c'è cut color audio e effetti speciali carino no? è diviso così perché proprio come è montato DaVinci che oggi noi non lo affrontiamo DaVinci perché è un capitolo che va preso separatamente va bene? questa è la situazione poi allora prossimi appuntamenti per chi volesse venerdì alle ore 19.30 noi abbiamo appuntamento con alcuni vostri colleghi che devono stanno registrando un brano quindi dobbiamo vedere delle cose chi vuole può venire abbiamo dei vostri colleghi sudamericani che stanno facendo un brano e dobbiamo rivedere delle parti risentire eccetera quindi chi vuole venire alle 19.30 venerdì non la posso prescrivere contanto chi segue adesso l'ha sentito ok beh poi avanti vediamo domande no aspetta che avrò qui la schermata con le facce vostre chiudo lo stop sharing eccoci qua torniamo siamo torno di noi ecco qua domande nessuna domanda particolare Maria Angela tu hai delle domande no nessuna domanda nessuna domanda vabbè comunque sia riguardo delle stelle figure soggettista scenografo ok data manager time code generator field recorder abbiamo detto dei termini no uno intanto si fa un'idea e questo qui poi intanto sono 10 pagine 9 pagine molte figure ritate un'occhiata a se dispense ok conservatevele che possono essere interessanti il consiglio qual è di creare una directory in hard disk vedete un po' voi dove mettere tutta sta roba per esempio le lezioni no avete letto che io posso tenerle per un certo periodo poi vengono cancellate dal sistema noi non abbiamo una copia di quella non possiamo conservare tutto quindi voi scaricatevele fate un hard disk e buttatela dentro capito stesso vale per le dispense e tutto il resto perché poi uno ce li capita ci aspetta com'era quella roba che abbiamo visto ritorno indietro te la vai rivedere ok questo è tutto mi sembra che abbiamo è interessante sta cosa del video uno butta l'occhio cerca di che ne dite voi sembra interessante sì 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 mi piace benissimo allora grazie a tutti per aver partecipato noi ci vediamo per chi può venire Graziano che sta lavorando sicuramente ci ringrazia pure lui è un collega di un'altra classe noi ci vedremo la settimana prossima martedì però chi può venire venerdì alle 7 e 30 19 e 30 venite un po' prima ai 19 pure un po' 18 e 30 19 quando volete che tanto chiacchieriamo va bene ok va bene poi vedo Mariangelo vediamo se riusciamo a collegarci così almeno anche chi non può venire noi facciamo in modo in ogni caso di farvi seguire va bene insomma sto pensando tra un paio di settimane a partire sì 20 giorni 20 giorni 20 giorni tu fai quando vuoi venire a noi ci va sempre a vedere qui c'è sempre qualche cosa capito ogni giorno abbiamo qualche fortunatamente devo finire diciamo di studiare un po' per gli esami perché ce li ho a metà ottobre poi sono libera sì è certo questo qui tu vai tranquilla quello che devi fare l'importante è avere il cervello sempre con l'idea la curiosità butti in occhio un pezzetto qua un pezzetto là è un processo lento capito però entrare nella mentalità va bene ok va bene grazie a tutti allora buona serata a te ciao 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 ragazzi ciao 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 ciao